60 Seconds della domenica sera, lungo weekend, godetevi il riposo anche domani, è finito il G20 a Roma, mi ha colpito, ho seguito un po' prima di dedicarmi ai fatti importanti della giornata, faticosissima vittoria del Napoli a Salerno, mamma mia che fatica, allora dicevo, prima di dedicarmi alle cose importanti ho seguito un po' la conferenza stampa conclusiva del G20 di Mario Draghi, sapete che sul clima più che un'intesa è stato trovato un compromesso per tenere dentro o tirar dentro, come preferite, Cina e India, allora si è detto dovremmo raggiungere emissioni zero entro il 2050 o intorno, così con l'intorno si resta vaghi, però ragazzi la politica è compromesso e a questi livelli, su questi problemi, conoscendo perfettamente le richieste di India e Cina, non è che il G20 avesse delle alternative, però mi ha colpito, questo un po' anche per, ed è stato Mario Draghi a dare una risposta ai tanti che dicono, ma sti ragazzi quando manifestano alla fine tanto che vuoi che sia, e in realtà non è così vero o meglio, il problema qui non è la testimonial Greta piuttosto che le nuove e via dicendo, è il fatto che Draghi abbia richiamato il bla 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 ormai leggendario in conferenza stampa, non è che lui avesse bisogno come nessuno degli altri 19 di mettere le mani avanti, però questo testimonia semplicemente il tipo di pressione che movimenti come Fridays for Future ormai riescono ad avere sui grandi della terra, questo secondo me è un fatto di assoluto rilevo, è importante, poi non cambierà radicalmente, appunto siamo all'intorno, non siamo riusciti ad avere certamente quello che vorrebbero i ragazzi o grandissima parte di loro, però tra compromesso realismo e consapevolezza che c'è una pressione pubblica, mettendo insieme tutto questo, shakerando si ottiene ciò che si può oggi, ecco, io lo trovo importante, non su voi, ditemelo, ne torneremo sicuramente a parlare sulla ragione, torniamo in Edicola martedì, ci trovate sempre sull'app, scaricate, scaricate, scaricate o www.laragione.eu, ci leggete sempre gratis con la sola registrazione, ho faticato oggi, calcisticamente, a domani.